tecniche. È stato un lavoro molto complesso, perché il caso è complesso, e io ritengo che è la migliore risposta alle ansie, alle preoccupazioni che attraversano la comunità che rappresento qui, centinaia di persone che anche oggi erano in piazza a manifestare i loro sentimenti. Ed è necessario, come si è cercato di fare, inquadrare un obiettivo, e cioè il progetto di innovazione territoriale che è stato messo in campo nell'Accordo, un progetto che intreccia innovazione industriale, infrastrutturazione, bonifiche, rimessa in gioco di aree, e anche l'incanalarsi in nuove filiere produttive, questa idea del trattamento e del refitting delle navi, oltretutto potenzialmente integrabile con il comparto siderurgico, è a mio giudizio un'idea forza. A Piombino sono nati i forni Bessemer, a Piombino sono stati installati i primi forni Martin Siemens. Noi aspiriamo e ringraziamo il Vice Ministro De Vincenti, che è stato uno degli artefici fondamentali, insieme ad Enrico Rossi, le rappresentanze dell'Unione Europea, che sono state testivamente approcciate. Noi aspiriamo a installare a Piombino, per la prima volta in Italia, delle nuove forme di produzione di Gisa, con nuove tecnologie più ambientalmente sostenibili. Io condivido profondamente gli argomenti che ha portato qui il Ministro Galletti.